Oggi continuiamo il potere della consapevolezza e andiamo a vedere un'altra storia, un altro esempio di come usare la legge dello spirito, la legge dell'assunzione. La storia seguente illustra l'uso con successo della legge dell'assunzione da parte di un uomo d'affari. Nell'autunno del 1950, il dirigente di una prestigiosa banca di New York discusse con me un problema serio al quale doveva dare una soluzione. Mi disse che sebbene avesse raggiunto l'età media, le sue prospettive di avere una promozione e un aumento di stipendio erano molto scarse. Ne parlo ai suoi superiori, costoro gli dissero francamente che qualunque sostanziale miglioramento era impossibile e gli intimarono che nel caso in cui fosse stato scontento poteva cercarsi un altro impiego. Ciò naturalmente aumentò soltanto il suo disagio. Nella nostra conversazione spiego di non avere desiderio di grossi guadagni, bensì di avere uno stipendio migliore per poter mantenere la famiglia comodamente e provvedere all'istruzione dei suoi figli in scuole migliori. Cosa che riteneva impossibile con il suo attuale stipendio e rifiuto della banca di assicurargli un qualunque avanzamento gli causò una sensazione di malcontento e di un intenso desiderio di assicurarsi una migliore posizione con una considerevole somma di denaro in più. Mi confidò che il tipo di lavoro che gli sarebbe piaciuto più di ogni altra cosa al mondo era quello di amministrare i fondi di investimento di una grande istituzione tipo fondazione o grande università. Nello spiegare la legge dell'assunzione affermai che la sua presente situazione era soltanto una manifestazione del suo concetto di sé e dichiarai che se desiderava cambiare le circostanze in cui si trovava lo poteva fare cambiando il proprio concetto di sé stesso. Per causare questo cambiamento di coscienza e con ciò un mutamento nella sua situazione gli chiesi di seguire la seguente procedura ogni sera prima di addormentarsi. Nell'immaginazione doveva sentire di riposarsi al fine di uno dei più importanti e riusciti giorni della sua vita. Doveva immaginare di aver effettivamente stipulato un contratto in quello stesso giorno per unirsi al tipo di organizzazione nella quale desiderava essere e di ottenere l'incarico auspicato. Gli suggerì che se fosse riuscito a colmare del tutto la mente con tale sensazione avrebbe provato l'esperienza di un completo senso di sollievo. In tale disposizione d'animo e il suo disagio e malcontento sarebbero stati una cosa del passato. Egli avrebbe invece sentito la soddisfazione che giunge con il compimento del desiderio. Conclusi assicurandogli che se avesse fatto ciò fedelmente avrebbe inevitabilmente ottenuto il tipo di posizione che voleva. Ciò avveniva nella prima settimana di dicembre. Sera dopo sera, senza eccezione, egli seguì tale procedura. All'inizio di febbraio, il direttore di una delle più ricche fondazioni del mondo richiese se fosse stato interessato a passare alla fondazione con una posizione direttiva negli investimenti. Dopo qualche breve discussione, egli accettò. Oggi, con uno stipendio sostanzialmente più elevato e con l'assicurazione di un costante progresso, quest'uomo è in una posizione di gran lunga migliore di tutto ciò che aveva mai sperato. Ora andiamo a vedere un'altra storia, un altro esempio di grande successo nell'usare la legge dell'assunzione, la legge dello spirito, come dice Neville Goddard. I protagonisti di questa storia avevano partecipato a parecchie mie conferenze per diversi anni. Questo è un interessante esempio dell'uso cosciente della legge dello spirito da parte di due persone che si concentrano sullo stesso obiettivo contemporaneamente. Era una coppia eccezionalmente devota. La loro vita era pienamente felice e completamente libera da qualunque problema o frustrazione. Per qualche tempo avevano progettato di spostarsi in un appartamento più grande. Più ci pensavano e più si rendevano conto che la casa dei loro sogni doveva essere un bel attico. discutendone assieme, il marito spiegò di volerne uno con una grande finestra, con una vista meravigliosa. La moglie disse che le sarebbe piaciuto avere un lato delle pareti interamente coperto da specchi. Entrambi volevano avere un cammino a legna. Era indispensabile che l'appartamento fosse nella città di New York. Per mesi avevano cercato in vano un simile appartamento. La situazione infatti era tale che ottenere un qualsiasi tipo di appartamento era quasi impossibile. Scarseggiavano al punto che non solo esistevano delle liste di attesa per averli, ma vi erano altresì tutti i generi di accordi speciali che prevedevano provvigioni, l'acquisto dei mobili, eccetera. I nuovi appartamenti venivano affittati molto tempo prima che fossero completati e molti addirittura ancora in fase di progettazione. All'inizio della primavera, dopo mesi di vana ricerca, ne trovarono uno che presero seriamente in condizioni. Era un attico in un edificio appena ultimato nella parte alta della quinta strada di fronte al Central Park. Aveva un serio inconveniente, essendo un edificio nuovo. Non era ad affitto bloccato e la copia in questione riteneva esorbitante la cifra annuale da pagare. Si trattava infatti di svariate migliaia di dollari in più rispetto a quanto avessero considerato di pagare. Nel corso della primavera, marzo-aprile, continuarono a considerare altri attici in tutta la città, ma tornavano sempre al primo. Decisero in ultimo di aumentare in modo sostanziale la cifra che avrebbe pagato e fecero una proposta che l'agente amministratore dell'edificio concordò di inoltrare ai proprietari affinché la prendessero in considerazione. Fu a questo punto, senza discuterne reciprocamente, che ognuno di loro determinò di applicare la legge dell'assunzione. Solo più tardi appresero quello che l'altro aveva fatto. Sera dopo sera, entrambi si addormentarono immaginandosi nell'appartamento da loro preso in considerazione. Il marito, steso a occhi chiusi, si immaginava che le finestre della sua camera da letto dessero sul parco. Si figurava come prima cosa di andare alla finestra al mattino per godersi la vista. Si sentiva seduto sulla terrazza, prospicente il parco, bevendo cocktail con sua moglie e gli amici, tutti godendone a pieno. Si colmava la mente con l'effettivo sentirsi nell'attico e sulla terrazza. Nel corso di tutto questo tempo, a sua insaputa, sua moglie faceva la medesima cosa. Trascorsero parecchie settimane senza alcuna decisione da parte dei proprietari, ma essi continuarono a immaginare ogni sera, mentre si addormentavano di essere realmente là a dormire nell'attico. Un giorno, con loro grande sorpresa, uno degli impiegati che lavorava nell'edificio in cui essi vivevano, disse loro che l'attico del loro palazzo era libero. Se ne stupirono, poiché il loro era uno dei più ambiti edifici in tutta la città, con una perfetta posizione proprio di fronte al Central Park. Sapevano che vi era una lunga lista d'attesa di persone che cercavano di ottenere un appartamento nel loro edificio. Il fatto che un attico fosse inaspettatamente divenuto disponibile era tenuto nascosto dalla direzione amministrativa, poiché non era nella posizione di considerare nessun aspirante. Nell'apprendere che era vacante, la coppia fece immediatamente richiesta che fosse loro affittato, soltanto per sentirsi dire che la cosa era impossibile. Non solo vi erano parecchie persone in lista di attesa per un attico nell'edificio, ma inoltre era già stato promesso a un'altra famiglia. Nonostante ciò, la coppia ebbe una serie di incontri con la direzione, a conclusione di quale l'appartamento fu loro. Avendo l'affitto bloccato, la cifra che dovevano pagare era all'incirca quella che avevano programmato quando cominciarono a cercare un attico. La posizione, l'appartamento in se stesso, la grande terrazza che lo circondava sui lati sud, ovest e nord, era al di là di tutte le loro aspettative. E nel salotto vi era un'immensa finestra con una vista meravigliosa sul Central Park. Una parete era ricoperta di specchi dal pavimento al soffitto e vi era pure un cammino a legna. E con questo si conclude tutto ciò che erano le storie, le storie vere dell'usare con successo la legge di assunzione. Andiamo a vedere un altro piccolo capitolo intitolato Il fallimento. Sentite questo primo passaggio che è molto, molto bello. Il tempo che occorre alla vostra assunzione per divenire realtà è proporzionale alla naturalezza di esserlo. Questo libro non sarebbe completo senza una qualche discussione in merito al fallimento nel tentativo di usare la legge di assunzione dello spirito. È possibile che abbia avuto o avrai un certo numero di insuccessi nella tua vita, molti dei quali in vicende veramente importanti. Se avendo letto questo libro o possedendo una completa conoscenza dell'applicazione del funzionamento dell'assunzione, la applichi fedelmente nello sforzo di realizzare un qualche intenso desiderio e fallisci. Se alla domanda hai persistito abbastanza puoi rispondere sì e ancora l'ottenimento del tuo desiderio non è avvenuto, ti domanderai qual è la causa del fallimento. La risposta a ciò è il fattore più importante nell'uso con successo della legge dell'assunzione. Il tempo che occorre affinché la tua assunzione divenga fatto e il tuo desiderio venga esaudito è direttamente proporzionale alla naturalezza del tuo sentire di essere già quello che vuoi essere, di avere già quello che desideri. Il fatto che non lo senti naturale, ovvero l'essere, ciò che ti immagini di essere, è il segreto del tuo fallimento a prescindere dal tuo desiderio e da quanto fedelmente e con intelligenza segui la legge. Se non ti senti naturale in merito a quello che vuoi essere, non lo sarai. Se non senti naturale ottenere un miglior lavoro, non l'avrai. L'intero principio è espresso in maniera vivida dalla frase biblica Tu mori nei tuoi peccati, poiché non trascendi dal tuo presente livello allo stato desiderato. Come può tale sensazione di naturalezza essere conseguita? Il segreto si trova in una parola, immaginazione. Per esempio, quella che segue è un'illustrazione molto semplice. Presumi di essere incatenato in modo saldo a una grossa e pesante panca di ferro. In tali circostanze non sarebbe naturale per te correre e neppure camminare. Non potresti nemmeno avere la sensazione che lo fosse, ma potresti immaginarti nel lato di correre. Nell'istante in cui la tua coscienza è colma dell'immaginazione del correre, avrai scordato di essere legato. Nell'immaginazione la tua corsa era del tutto naturale. L'essenziale sensazione di naturalezza può essere acquisita colmando in maniera persistente la tua coscienza con l'immaginazione, immaginandoti di essere quello che vuoi, oppure di avere ciò che desideri. Il progresso può scaturire solamente dalla tua immaginazione, dal tuo desiderio di trascendere il tuo livello presente. Quello che in verità è letteralmente devi sentire e che con la tua immaginazione tutte le cose sono possibili. Devi renderti conto che i cambiamenti non sono causati dal capriccio, bensì da un mutamento di coscienza. Puoi fallire nell'acquisire o nel sostenere il particolare stato di consapevolezza necessario per produrre lo sforzo da te desiderato. Ma una volta che saprai che la coscienza è l'unica realtà, nonché il solo creatore del tuo particolare mondo, e avrai fatto bruciare tale verità nel tuo intero essere, saprai che il successo e il fallimento sono interamente nelle tue mani. Che abbia o non sufficiente disciplina per mantenere lo stato di coscienza necessario a soddisfare le tue richieste specifiche non ha alcuna relazione con la verità della legge dello spirito. Che un'assunzione, se viene fatta persistere, si concretizzerà in un fatto. La certezza della verità in tale legge deve restare, malgrado una grande delusione e tragedia, perfino quando vedi andarsi nella luce della vita e tutto il mondo proseguire come se fosse ancora giorno. Tu non devi credere che, poiché la tua assunzione non è riuscita a materializzarsi, la verità è che le assunzioni veramente si materializzano sia che siano una menzunnia. Se le tue assunzioni non sono esaudite, è a causa di qualche errore o debolezza nella tua coscienza. Tuttavia, tali errori e debolezze possono essere superate. Tendi, pertanto, verso l'acquisizione di livelli sempre superiori, sentendo di essere già la persona che vuoi essere. Ricordati che il tempo che occorre affinché la tua assunzione diventi realtà è proporzionale alla naturalezza di esserlo. L'uomo si circonda della vera immagine di se stesso. Ogni spirito si edifica a una dimora e al di là di essa un mondo è al di là di questo un cielo. Per voi il fenomeno è perfetto. Quello che siamo, soltanto ciò possiamo vedere. Tutto quello che Adamo aveva, tutto quello che Cesare poteva, voi lo avete e lo potete fare. Adamo definiva il cielo e la terra, la sua casa. Cesare chiamava Roma la sua casa. Vuoi forse definire la vostra il negozio da calzolaio, cento acri di terra o la soffita dello studente? Tuttavia, linea per linea e punto per punto, il vostro possedimento è altrettanto grande, sebbene senza un bel nome. Costruite quindi il vostro stesso mondo. Quanto più rapidamente conformerete la vostra vita all'idea pura nella vostra mente, altrettanto rapidamente vi si sveglierà il suo grande potenziale. Ralph Waldo Emerson Meraviglioso questo passaggio che ci dice continuamente Ricordati che il tempo che occorre affinché la tua assunzione diventi realtà è proporzionale alla naturalezza di esserlo. Cioè quello che vi dico sempre io in parole diverse, più semplici magari, non ho usato la naturalezza, ma ho usato la familiarità. Vi dico spesso che dovete sentirlo familiare esattamente come con un abito che indossate dopo un po' di tempo e lo sentite già vostro. Vi sentite bene dentro perché oramai vi è familiare. Giusto? È quello che continuo a dirvi ed è molto importante. Ricordatevi sempre che un'assunzione se viene fatta a persistere si concretizza nel fatto e non c'è storia che tenga perché lo abbiamo fatto da sempre solo che non ci ricordavamo ciò che stavamo facendo. Non solo, ma non eravamo consapevoli di ciò che stavamo facendo perché questa legge la usiamo sempre purtroppo nel modo sbagliato. a nostro sfavore invece che a favore nostro. Io mi fermo qui e domani partiamo da qui. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.